Letizia Paternosser per bici.pro. Letizia, si presenta al Giro d'Italia degli Uomini, ma finalmente si inizia a parlare anche del periodo delle donne, che da quest'anno è la corsa anche di RCS Sport. Non vedi l'ora che si riparta anche l'anno prossimo? Sì, non vedo l'ora. In realtà non vedo l'ora di scoprire anche il nostro percorso. Oggi è uscito quello degli uomini e so che avrebbe uscire anche il nostro. Quindi non vedo l'ora di scoprire le tappe, le altimetrie. Poi sarà tempo di mettere il cerchietto dove penserò sia possibile. Ecco, quest'anno la rosa l'hai sfiorata. L'anno prossimo è uno dei sogni, però c'è anche un altro sogno che si chiama Parigi, che non è il Tour de France, ma è l'Olimpiade probabilmente. Esattamente, l'anno prossimo il grande sogno è solo uno e quindi punterò tutto su quello perché per me veramente sarà fondamentale e quindi come grande sogno e come obiettivo sarà uno e sarà Parigi e poi tutto il resto vedremo.